L'accordo della discordia, quello di pace tra Armenia e Azerbaijan, ha quasi disarcionato il primo ministro armeno. Nikol Pashinyan ha infatti annunciato le elezioni anticipate per il 20 giugno. Con una dichiarazione su Facebook, seguita ai colloqui con il presidente Sarkissian e i leader delle forze politiche rappresentate in Parlamento, il premier ha sostenuto di voler affidare alle urne l'uscita dalla crisi politica. I sostenitori dell'opposizione hanno bloccato gli edifici governativi e barricato le strade per sollecitare le dimissioni immediate di Pashinyan, che resta però in sella sino al voto e con la possibilità concreta di venire riconfermato. Il blocco filogovernativo in Parlamento si assicurerà molto probabilmente una maggioranza ridotta, ma ancora funzionale. L'opposizione è ampiamente screditata a causa dei suoi legami con il precedente governo, corrotto ed è profondamente impopolare, il che significa che è improbabile che gran parte dell'opposizione sia in grado di raccogliere abbastanza voti per entrare nel nuovo Parlamento. L'Armenia è percorsa da tensioni politiche dopo la sconfitta, definita umiliante dalle opposizioni, nella guerra per il Nagorno-Karabakh, territorio sotto la giurisdizione a zera che i separatisti sostenuti dall'Armenia hanno controllato per più di 25 anni.